amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive come promesso abbiamo qui la l'alfa 4c che abbiamo presentato in un video precedente quindi se andate sulla rubrica dei video all'interno del canale la trovate sicuramente dove avevamo descritto quelle che erano le caratteristiche della macchina quindi non sto a ripetere quelle che sono le caratteristiche peculiari di questa macchina che ritorno a ripetere è veramente straordinaria ed è un gioiello di tecnologia italiana e un vanto per il marchio alfa romeo questa macchina come avevamo precedentemente spiegato viene utilizzata sostanzialmente quasi esclusivamente per l'utilizzo agonistico quindi il cliente sfrutta quelle che sono le caratteristiche per il suo reale utilizzo avere una macchina di questo genere fra l'altro anche passatemi il termine scomoda da guidare perché poi alla fine è comunque scomoda senza servosterzo con diciamo le 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 comodità che qualunque macchina moderna ridotte al minimo diventa scomoda da guidare tutti i giorni il suo ambiente naturale ovviamente la pista quindi giustamente questo cliente qua se lo può permettere gomme semi slick la porta in pista appena può quindi molto velocemente riprendiamo quelle che sono gli aspetti peculiari questo motore posizionato quasi centralmente quindi una ripartizione dei pesi perfetta 50 50 tutta la scocca in carbonio che anche questa incredibile si vede dai montanti della battuta quindi tutta quella che la cellula principale in carbonio e la parte del motore il supporto del motore in alluminio viene vincolato nella parte posteriore come viene sulle lamborghini in sostanza viene assemblato con la cellula quindi questa parte qui è una parte con i montanti in alluminio sulla quale viene montato il motore che a sua volta il gruppo viene ancorato quello che la cellula in carbonio quelli che erano i lavori che noi che c'erano stati commissionati sostanzialmente erano al di là di un discorso di messa a punto del motore abbiamo montato questo spoilerino adesso si vede chiudiamo il mano motore questo spoiler in carbonio specifico di questa macchina abbiamo tribolato un po per trovarlo e poi quello che ci aveva chiesto il cliente andando in pista e il cliente ci ha chiesto di proteggere la parte anteriore con una pellicola protettiva particolare quindi abbiamo rivestito tutta la parte anteriore lo si vede adesso è difficile da vedere lo si vede più da questo punto qua se tu vedi in contrasto la pellicola protettiva arriva fino a questo punto e da qua in avanti al di là che c'è qualche macchiolina di residuo di acqua si vede chiaramente lo stacco quindi noi abbiamo come dire pellicolato tutta la parte anteriore compreso le calotte degli specchietti e non aveva senso andare a pellicolare il resto della macchina lo si vede ben chiaramente questa pellicola anche al tatto chiaramente della vita è impossibile vedere al tatto e molto più si sente che è una pellicola particolare una pellicola speciale che va proprio a ricoprire in maniera perfetta ed è molto duttile per ricoprire in maniera perfetta e ripara nei limiti del possibile quello che sono diciamo nel pietrisco che arriva sulla sulla carrozzeria ecco a livello di pietrisco si possono vedere ancora perché sotto erano già vedete alcuni queste piccole imperfezioni il cliente ci aveva chiesto solo di mettere la pellicola e non sarà riverniciare tutta la parte queste sono le classici sassolini anche di misura veramente molto piccola che vengono sparati dalla macchina che vi precede sono come dei proiettili avevo fatto vedere la volta precedente cosa è successo a una di queste diciamo di questi led che compongono il faro anteriore qua sicuramente arrivato un qualche cosa un sassolino leggermente più grande ha centrato questa parte e la crepata nettamente se vi arriva un sassolino di questo genere sul vetro ve lo ve lo disintegra quindi diciamo che va bene usarla in pista però diciamo essendo una macchina anche di valore considerevole perché bene o male sono andato a vedermi quelli che sono i valori di macchine di questo genere e arriviamo quasi a 100 mila euro come valore intrinseco di una vettura di questo tipo quindi è giusto anche divertirsi in pista ma cercando di salvaguardarla nei limiti del possibile quindi questo è un lavoro che facciamo non in maniera estremamente frequente perché clienti che vanno in pista ce ne sono meno c'è capitato di farle su alcune vetture anche per l'utilizzo stradale in questo caso perché i clienti uscivano dal concessionario con la macchina intonsa e a questo punto per preservarla in maniera perfetta viene pellicolata tutta la parte anteriore come ripeto è una pellicola che ha un costo anche abbastanza notevole perché non è come il wrapping normale una pellicola che proprio tende a diciamo a dilatarsi e va stesa con una professionalità ulteriormente maggiore rispetto a quello che può essere un classico wrapping perché deve essere proprio tirata deve aderire a quello che è la la parte che viene che viene protetta io direi che anche per questa alfa 4c è tutto per qualunque tipo di informazione mi potete come al solito contattare in sede io sono disponibile dal lunedì al venerdì chiamatemi pure quando volete quello che vi chiedo è cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per aiutarci a farlo crescere sempre di più e aiutarci anche a diffondere quelli che sono i nostri lavori il fatto che diamo tanti consigli anche gratuitamente a persone di qualunque genere che vedendo i video abbiamo avuto un incremento di richieste esponenziale e devo dire che questo ci fa molto piacere ci fa lavorare di più però ci fa anche molto piacere vuol dire che i nostri video comunque hanno successo interessano e questa è la cosa principale un saluto alla prossima